Rovi, erbacce ed animali di ogni tipo. È la segnalazione di incuria proveniente da un quartiere di Fano, quello di Sant'Orso esattamente, in cui i residenti, nei pressi della ferrovia, in via degli astronauti, si lamentano della situazione con cui ogni giorno devono fare i conti. Qualcuno interviene a fare queste pulizie, ma c'è tutta questa robaccia, c'è le serpe, anche le volpe ho visto. Non può tenere una cosa così. Noi siamo qui vicini, i più vicini che c'è ne risentono di tutte queste cose che ci sono, che non ci devono essere. Lei quest'estate ha pulito questi erbacce, questi rovi? Ho pulito fino a dove posso fare, ma io non posso fare tutta la ferrovia, già ne ho fatto già troppo, perché da laggiù fino a qua l'ho pulita, però adesso bisogna che interviene di chi è questa roba. Tra l'altro c'è anche una ringhiera qui in mezzo ai rovi. In mezzo a me c'è la ringhiera che è caduta, prima di pulire bisogna tirar via la ringhiera perché c'è una cosa, se no non si riesce a pulire insomma. Tra l'altro lei ha trovato nel suo giardino anche degli animali? Gli animalacci, sì, ho trovato anche quelli. Quali? Delle serpe, dei topi, una volta anche una vulpe ho visto che camminavo giù di qui, ma capito, dopo io non sono sempre qui, dei momenti passerà della roba. D'estate qui ci stanno molto sopra il binario, le visce. Ascolta, questo non è il primo appello che lei fa a Fano TV? L'ho fatto anche 5-6 anni fa, l'ho fatto, quella volta dopo gli è andato, una botta, ma però da quella volta non si è visto più nessuno. Quindi adesso lei richiede un nuovo intervento? Chiede un intervento, che qualcuno intervenga di fare queste cose. Da quant'è che non vengono più fatte le pulizie? Io penso che 50 anni, da quanto che passava il treno, da quelle lì, quel pezzo lì non è stato mai pulito. Da quanto passava il treno, una volta l'anno passavano, ma adesso dopo che non c'è più il treno, lì quello è sicuro, una cinquantina d'anni sicuro che non è mai pulito. Penso un po' alla roba che ci sarà, lì da tirare via.